Piemonte Digitale è il tentativo di mettere insieme tutti gli elementi di forza di questo territorio. L'innovazione passa soprattutto attraverso i territori locali. Ma che cosa fa la forza di un territorio? Lo fanno alcuni elementi combinati insieme. Innanzitutto le infrastrutture. Senza infrastrutture non è possibile alcuna innovazione digitale naturalmente. Non è possibile digitalizzare i servizi, non è possibile modernizzare i processi e addirittura aprire nuove forme di commercio che consentono ai territori, alle aziende che sono, alle piccole e medie aziende che sono sui territori di vendere al mondo. In secondo luogo è il sistema delle imprese. Il sistema delle imprese è la linfa vitale dell'innovazione all'interno dei territori. Le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, devono rendersi conto che le nuove tecnologie sono un fattore essenziale per migliorare la loro produttività, la loro efficienza e per aprire i nuovi mercati. Per i giovani si tratta di cominciare a lavorare subito e di studiare per tutta la vita, perché i lavori che dovranno fare cambieranno moltissimo nel corso della loro vita. Per le persone più mature, che hanno competenze che spesso sono legate all'unità industriale precedente, è assolutamente necessario un processo di formazione, di aggiornamento di formazione continua alle nuove tecnologie, perché anche il loro lavoro cambia. E quindi il futuro del lavoro, se non vogliamo creare una situazione che crea strutturalmente disoccupazione, è legato alla rigenerazione continua delle competenze e quindi al sistema educativo. Passo senza indugio a Marco Cazzamessa, che oltre a essere presente... Infrastrutture, imprese, istituzioni, sistema educativo, devono remare insieme nella stessa direzione. E soprattutto devono essere legati alle vocazioni identitarie dei territori, le cose per cui i territori sono eccellenti, sono specializzati a fare. Allora è estremamente importante una politica che riesca a mettere insieme tutto questo, che riesca a favorire la competitività del territorio e la sua capacità di generare innovazione. Questo è quello che noi stiamo facendo, mettendo insieme imprenditori, economisti, amministratori, ricercatori, sindacalisti, tutti quanti alla ricerca di che cosa fare, di quali politiche e di quali iniziative assumere per rendere la regione piemontese sempre più competitiva. Piemonte Digitale è una fra le due regioni italiane che sono categorizzate all'interno di più di 200 regioni europee come innovatori e quindi ha un ottimo posizionamento. Evidentemente da questo punto di vista però non c'è limite al meglio, nel senso che il problema delle infrastrutture deve essere affrontato in modo più radicale, qui dipende evidentemente anche da iniziative nazionali, il piano per la banda ultralarga, il piano Bull, è un piano essenziale per realizzare infrastrutture molto avanzate che diano la possibilità di generare servizi adeguatamente competitivi. Dal punto di vista delle imprese c'è un'eccellenza manifatturiera storicamente importante che oggi è in una fase di profonda trasformazione. Quindi aziende importanti come Pininfarina, come Miroglio, come Avioero, come molte altre, così come d'altra parte nel settore di Information Technology, Reply, Olivetti, RG, Osai, ecco tutte quante porteranno le loro esperienze, le loro testimonianze e le iniziative importanti che stanno conducendo nel termine di innovazione di prodotto e di processo all'interno di questo settore.